eravamo in tanti con crisi d'astinenza da schifidol finalmente è tornata la nostra dose quotidiana con lo schifido slime super strong metti alla prova la tua forza e allungalo più che puoi ecco qua packaging leggermente diverso costo matto che se lo tira in testa e comunque vari colori confezione bella grande per cui un bel pezzo di slime ecco qua con cui giocare va che bei colori belli 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 se non altro questo non si può dire senza ombra di dubbio a te qual è il colore che piace di più io sarei molto indecisa perché ce ne sono di belli sul serio persino loro ma questo guarda questo è bello ecco infatti mi hanno messi due ho detto io che era bello uno più bello dell'altro questi costano vediamo se vediamo anche il prezzo fra tutte queste cose che ci sono scritte vediamo 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 solamente 3 euro e 50 viene scegliere il colore che ti piace di più se sei il primo ti tocca di sicuro